Stai compilando le domande per i regolatori provinciali e hai ancora molti dubbi? Allora segui la diretta di Tecniche della Scuola Live mercoledì 29 luglio alle ore 15.30. Risponderemo in diretta ai vostri quesiti e alle domande più frequenti che ci avete posto in questa settimana. Vi aspettiamo mercoledì 29 luglio alle ore 15.30 sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook.